C'è Berlusconi, è molto famosa la storiella, c'è Berlusconi che ha un'idea brillante nel momento della sua apoteosi come Presidente del Consiglio e come grande uomo dei media e allora ha un'idea straordinaria e manda fedele confalonieri e buonaiuti a trattare col cielo, col paradiso, perché vuole fare un grande network per il paradiso. Allora sono curiosi, lo mandano a chiamare e c'è la riunione, c'è la grande riunione al tavolo come nelle riunioni di Consiglio d'Amministrazione c'è il Padre Eterno, tutti i rappresentanti delle religioni, San Pietro, Gesù, Abramo, Mosè, tutti stavano lì e allora Berlusconi propone il suo piano, tutti guardano, leggono, lui illustra, discute e alla fine come un vero grande manager come lui è, dice a tutti quelli che sono lì intorno al tavolo di Presidenza del Paradiso dice domande e il Padre Eterno, il Santo Benedetto dice io avrei una domanda, prego signor Padre Eterno, caro Silvio, perché io Vicepresidente? Grazie